Bene, siamo nell'aereo per Tocchio e ci stiamo accomodando nei nostri posti. Qua, oltre la mia borsa, c'è un cuscino, la mia quetta, questa forse è una copertina, non si sa. Ma vediamo qui, e c'è mio amico, gli amici del viaggio, dove lo zoom? Allora, vediamo qua, come ci ci ha ora? Qui sono questi qua, ma fate un po' la casa. Questa è la nostra guida. Adesso ci facciamo 10 ore di viaggio. Signore e signori, venuti a bordo di questo volo per Tocchio. Per motivi di sicurezza vi preghiamo di sistemare il bagaglio a mano sotto la poltrona di fronte a voi nelle cappelliere sopra di voi. In caso di necessitati, mi chiamo contattati, grazie. Ladies and gentlemen, come on board is by to Tokyo. For your safety and the assets, please. Your handbag, each other is in front in your overhead locker. Finally, I see you may for a discontatta cabin crew. Thank you. Let'o pass. But it's all for me, I'll see you in the quill. All I can do is to go to the area of the tibia. il球 del soleo, alistancello del soleo, al linguistico che siっちgini non compagnieしょう investire il il tempo di insocredito. Alle. Grazie per la visione